Riva degli Etruschi che vengono ad allenarsi qui che cosa cosa nasconde questo riva degli Etruschi qual è il segreto? innanzitutto è il clima che qui un po' la fa da padrone è una lingua di terra qui sulla costa degli Etruschi sulla costa proprio qui viene chiamata proprio il costo degli Etruschi proprio perché siamo su una parte proprio del mare in cui voi per tanti motivi riusciamo sempre ad avere il tempo diverso che a tutte le altre parti non solo dell'Italia ma anche della Toscana stessa ecco questo è quello poi e noi traiamo vantaggio come struttura proprio essendo proprio sulla costa un valore aggiunto un punto a mio favore di questo progetto che è numerato nel 2004 proprio dalla tua vittoria fatta a Atene fortunatamente che ci ha portato e mi avevo in mente da tanto tempo io una cosa del genere e poi praticamente si è materializzata con la vittoria tua ad Atene e qui da lì ho intrapreso con Riva degli Etruschi o Residence Riva degli Etruschi proprio un progetto e fortunatamente loro hanno creduto in questo progetto e questo è stato molto importante perché è inutile avere delle idee quando poi non vengono supportate per tanti motivi da delle strutture che sì è vero questa tuttora via è nata per diciamo per un discorso di estivo perché ad alta qualificazione sia da punto di vista del personale sia da punto di vista di tutto il personale che è qui qualificato e poi anche per un discorso di disponibilità però vuoi per tanti motivi anche il discorso di invernale che ci poteva associare il discorso dello sport perché la struttura lo permette ampi spazi all'interno di questo di questo posto meraviglioso perché al di là del discorso che io sia di queste parti però effettivamente un posto così non si trova da tante parti infatti qui c'è la possibilità di avere palestra centro benessere tutti i tipi di percorso possibili sterrato asfaltato e piste di atletica ma ad esempio una squadra ciclistica che cosa ti chiede quali sono le loro priorità ecco per esempio la lampre ormai viene qui da anni che è una squadra professionista di alto livello voglio dire loro hanno degli orari particolari e questo riva delle etrusche praticamente gli va incontro perché loro quando fanno una seduta per esempio di 6 settore partono la mattina verso le 9 le 10 e chiaro arriveranno nel pomeriggio e qui troverebbero tutto chiuso fortunatamente qui hanno capito com'è la situazione è chiaro che li vanno incontro per esempio noi ci ritrovano qui 15 e 30 16 e 30 a preparare il pasto per gli atleti viene anche per esempio squadre di mountain bike dalla Svizzera e quello è anche molto importante andare all'incontro portarli su percorsi che io conosco molto bene qui nei dintorni e che si prestano molto bene anche per un discorso sia di strada e sia proprio di asfalto c'è anche un grande appassionato di atletica un ex maratoneta ma lasciamo perdere li lasciamo perdere ci sono stati degli atleti che ti hanno colpito che sono passati di qui naturalmente che ti hanno colpito in modo particolare per talento per qualche allenamento eccezionale che hai visto io praticamente ho conosciuto un po' l'atletica degli anni 80 e l'atletica di ora e devo dire una cosa che sono stato colpito da tre atleti tre atleti che hanno praticamente sono li conosco molto bene uno non perché sei presente te ormai ti connubi nel 96 figuriamoci e facciamo quel bel lungo Piombino San Vicenzo Piombino bravissimo 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 e praticamente io ti ho conosciuto in quel periodo lì e con te qui sei venuto quando ancora non avevi vinto niente giusto? ho cominciato hai cominciato a vincere dopo proprio quell'allenamento lì ora non è dico che io siamo stati abbiamo fatto la differenza però da lì ha incominciato a vincere non è che io poi mi sono perché magari ho visto lungo ho visto in te la persona che potevi fare qualcosa poi conosco bene l'ambiente conosco bene il professor Luciano Gigliotti che ormai è da anni l'altra persona che mi ha colpito per la tenacia e tutto è Gelindo Bordin che anche lui conosco molto molto bene e poi un'altra persona che io conosco molto bene che è un po' dell'atletica di oggi io purtroppo sono un tifoso sono uno dei tifosi è Andrea Lalli questo lo devo ammettere perché so effettivamente che lui può dare tanto all'atletica italiana questo lo penso anch'io ecco ecco poi detto anche da te diciamo ha più valore che del mio grazie a tutti